passiamo al giorno cos'è il giorno? è un poemetto diviso in quattro parti Parini lavorerà questo poemetto praticamente fino alla sua morte fino alla fine dei suoi giorni vi dicevo diviso in quattro parti sulla sinistra vedete che la prima parte è il mattino, la seconda è il mezzogiorno realizzate tra il 63 e il 65 le altre due parti sono il vespro e la notte alle quali ha lavorato fino alla sua morte appartiene al genere didascalico cosa vuol dire genere didascalico? il poemetto è una descrizione un genere molto in voga nella Francia illuminista è la descrizione della giornata di un giovin signore cioè di un giovane nobile è la descrizione a fini moralistici praticamente utilizza in questo poema molto l'ironia ad esempio utilizza dei toni epici dei toni estremamente gravi estremamente solenni per raccontare poi degli episodi che alla fine sono degli episodi piuttosto banali e all'interno del poema oltre all'ironia è presente un realismo piuttosto crudo con il quale il buon Parini descrive alcuni episodi poi vedremo nell'episodio nel testo che andremo ad affrontare la Vergine Cuccia in che maniera sono presenti sia l'ironia che il realismo crudo in questo poemetto Parini paragona il cicisbeo il giovin signore il nobile dai modi affettati lo sfaticato con le classi produttive in particolare con i contadini e gli artigiani che sono il simbolo secondo Parini appunto della vita laboriosa ozio inutilità sociale noia e immoralità sono appunto i caratteri del giovin signore e per estensione i caratteri di tutta la nobiltà una nobiltà oziosa che non lavora che quindi è diventata inutile socialmente che è aggredita dalla noia e che cerca di uscire da questa noia attraverso l'immoralità la Vergine Cuccia la Vergine Cuccia è un episodio contenuto nel Mezzogiorno in cui si descrive il pranzo al quale partecipano sia il giovin signore che la dama e al quale è presente anche un vegetariano che si scaglia in maniera violenta contro coloro che macellano senza pietà e si cibano di animali quindi di esseri viventi partiamo dal verso 503 con le ultime parole del vegetariano pera colui che prima osò la mano armata al zar sull'innocente agnella e sul placido bue né il truculento corregli piegaro i teneri belati né i pietosi mugiti né le molle lingue lambendi tortuosamente la man che il loro fato e mestri in gea tali parla o signore e sorge intanto al suo pietoso favelar dagli occhi della tua dama dolce lagrimetta pari alle stille tremule brillanti che alla nuova stagione gemendo vanno dai palmiti di bacco entro commossi al tiepido spirar delle primaure fecondatrici or le sovviene il giorno ai ferro giorno allorché la sua bella vergine cuccia delle grazie alunna giovenilmente vezzeggiando il piede villan del servo con le burne o dente segnò di lievenuta ed egli audace con sacrilego pie e lanciolla e quella tre volte rotolò tre volte scosse gli scompigliati peli e dalle molli nari soffiò la polvere rodente indi i gemiti alzando aita aita pari a dicesse e dalle aurate volte a lei l'impietosita eco rispose e dagli infimi chiostri i mesti serbi asceser tutti e dalle somme stanze le damigelle pallide tremanti precipitaro accorse ognuno il volto fu spruzzato d'essenze alla tua dama e la rimvenne al fin l'ira, il dolore l'agitavano ancor fulmine e sguardi getto sul servo e con languida voce chiamò tre volte la sua cuccia e questa al sen le corse in suo tenor vendetta chiedersi in brolle e tu vendetta avesti vergine cuccia delle grazie alunna l'empio servo tremò con gli occhi al suolo udì la sua condanna a lui non valse merito quadrilustre a lui non valse zelo d'arcani uffici in van per lui fu pregato e promesso e inudo andonne dell'assisa spogliato ond'era un giorno venerabile al vulgo in van novello signor sperò che le pietose dame in orridiro e del misfatto atroce odiar l'autore il misero si giacque con la squalida prole con la nuda consorte al lato sulla via spargendo al passeggiere inutile lamento e tu vergine cuccia idol placato dalle vittime umane isti superba abbiamo detto che all'inizio è il vegetariano a parlare e ad augurare la morte per a colui che prima o solo la mano armata alzar sull'innocente agnella sul placido bue quindi augura la morte a chi macella le bestie per cibarsene a questo punto alla fine del racconto è la dama che si commuove si commuove perché verso 511 al suo pietoso favelar quindi alle parole pietose del vegetariano dagli occhi della dama sgorga una dolce lacrimetta una piccola lacrima dolcissima uguale quindi da paragonare a quelle gocce tremule brillanti che durante la nuova stagione quindi in primavera vanno vengono prodotte dei palmiti di bacco quando quindi la ruggiada quando ci sono le prime aure fecondatrici capiamo appunto che la primavera con le gocce di ruggiata ruggiata sui palmiti di bacco cioè sulle viti or le sovviene il giorno cioè ora si ricorda la dama di un giorno di un episodio ai ferogiorno a giornata terribile allora quando la sua vergine cuccia il suo cucciolotto piccolo no? il suo piccolo cane il suo cagnolino delle grazie alunna quindi educatissima garbatissima addirittura educata dalle tre grazie giovanilmente vezzeggiando scherzando come sono soliti fare i piccoli giovani il piede attenzione qui il piede villano del serbo quindi il piede villano il piede volgare del serbo con le burne o dente con il dente d'avorio segno di lieve nota qui il parini è straordinario segna di lieve nota la garbatissima cagnolina il piede villano del serbo qui troviamo contrapposta la nobiltà del cane le burne o dente il dente d'avorio il piede villano il piede cafone vediamo contrapposta la nobiltà della cagnolina alla villania alla volgarità del serbo che si permette a questo punto dopo il morso il morso è segno di lieve nota vuol dire che ha morso il piede a questo punto il servo si permette di dare un calcio egli audace temerario il villano si permette di dare un calcio alla cagnolina lanciarla quindi lontano e farla lotolare tre volte a terra a mangiare la polvere come si suol dire quindi tre volte scosse gli scombigliati pelli dalle mollinari soffiò la polvere rodenne indi gemiti alzando quindi la cagnolina alza i gemiti si mette ovviamente a guaire a ita ita pare a dicessi la cagnolina diventa addirittura assume forme antropomorfe e il guaito diventa un grido di aiuto a ita ita e quindi scendono tutti dal palazzo nobiliare dalle volte addirittura rispose ecco ecco evidentemente questa questa volta era affrescata con delle figure mitologiche possiamo intenderlo oppure possiamo intendere che intendere che il grido d'aiuto il guaito la richiesta di aiuto della cagnolina rimbomba tra le stanze a questo punto cosa succede dagli infimi chiostri i mestiservi asceser tutto ecco dagli infimi chiostri cioè dalla parte bassa dai cortili dalle stanze dai cortili bassi del palazzo ascendono salgono i mestiservi sale la nobiltà che ovviamente ha il capochino eh dalle somme stanze quindi dalle stanze alte le damigelle pallide tremanti precipitaro ecco che le damigelle coloro che fanno parte quindi della nobiltà si precipitano e scendono giù dalle alte stanze vedete come c'è una stratificazione in alto i nobili in basso ovviamente la servitù quindi la gente volgare la gente del volgo ognuno accorse e la povera dama svenne ovviamente bisognava rianimarla no? quindi il suo volto fu spruzzato d'essenze fu spruzzato con i sali che si utilizzavano all'epoca per far rinvenire le donne e là quindi alla fine rinviene tutta agitata a causa dell'ire e del dolore immediatamente fulmina il servo con lo sguardo chiama la cagnolina la cagnolina corre tra le braccia della sua padrona e addirittura ecco qui ancora la personificazione sembra che chieda vendetta e qui c'è un altro colpo di genio di Parini e tu vendetta vesti vergine cuccia delle grazie alunna ecco ha avuto vendetta la cagnolina l'empio servo tremò empio chi era condannato di empietà coloro che addirittura offendevano gli dei con gli occhi al suolo della sua condanna il servo quindi a lui non valse merito quadrilustre quadrilustre vent'anni evidentemente questo servo aveva servito scusate il bisticcio in maniera impeccabile a lui non valse zelo d'arcani uffici cosa sono gli arcani uffici evidentemente al servo erano state affidate delle delle mansioni e il servo aveva assolto con grandissimo zelo a queste mansioni segrete quindi era persona di grande fiducia in van per lui fu pregato e promesso in vano da parte sua furono esternate preghiere e furono fatte promesse ovviamente di comportamenti più corretti in futuro e in nudo a donne dell'assisa spogliato onde era un giorno venerabile al volgo quindi viene spogliato dell'assisa cioè della livrea dell'abito che caratterizzava i serbi delle case nobiliari e fu buttato in mezzo alla strada attenzione la livrea faceva in modo che avesse una considerazione sociale superiore rispetto agli altri appartenenti appunto al popolo al volgo in van novello signor sperò non riesce a trovare più lavoro presso nessun altro nobile perché è perché le damme una volta conosciuta la storia e saputo che questo serbo aveva il cuore duro era un mascalzone per aver dato il calcio di rimando alla cagnolina che lo aveva morso odiar l'autore quindi lo odiarono e quindi non gli diedero più lavoro il misero a questo punto che fa non può fare altro che insieme alla squallida prole e con la nuda consorte quindi immaginiamo una consorte non nuda ovviamente ma vestita di stracci che cosa fa chiede sulla via cosa l'elemosina a chi passa ecco come si suol dire viene buttato in mezzo a una strada a questo punto la chiusura straordinaria e tu vergine cuccia idol placato delle vittime umane esti superba abbiamo parlato di sacrifici umani abbiamo detto che c'erano dei popoli che alle divinità sacrificavano addirittura dei giovani delle persone ecco in questo caso la vergine cuccia diviene un idolo superbo quindi un dio al quale bisogna sacrificare vittime umane per placare la sua ira bene quello che vi ho detto il commento lo trovate anche nell'analisi del testo e per quanto riguarda la parafrasi utilizzate quella del vostro libro che è fatta veramente in maniera quasi impeccabile quasi perfetta andiamo avanti stiamo concludendo il linguaggio poetico è un innovatore anche qui diciamo che Parini è un innovatore moderato da un lato è innovativo il suo linguaggio perché utilizza un linguaggio realista tipicamente sensista che evoca immagini capaci di sollecitare i sensi ne abbiamo già parlato è inutile ripetersi e dall'altra parte invece cede alla tradizione quindi al classicismo quindi dall'altro lato essendo impregnato di cultura classica ricordiamo anche che diventa sovrintendente di Brera quindi è a contatto continuo con opere d'arte della classicità italiana quindi utilizza un linguaggio tipico della tradizione poetica classica con espressioni auliche il termine aulico lo abbiamo già affrontato in diverse occasioni naturalmente è elevato dal punto di vista poetico e per finire vi faccio vedere due brevissimi spezzoni tratti dal film che avremmo dovuto ovviamente vedere a corredo del nostro percorso scolastico speriamo di tornare presto in classe ragazzi e poterlo vedere per intero il film è di Monicelli un maestro del cinema italiano interpretato Alberto Sordi nei due spezzoni viene descritta la viene descritto il momento in cui il marchese dopo aver gozzovigliato e aver perso tempo aver osiato va a dormire e quindi impedisce agli operai di casa ai servi di casa di lavorare e poi c'è il momento in cui invece viene svegliato e possono riprendere le attività degli artigiani e dei servi di casa ci vediamo alla prossima lezione ragazzi Bando ma che oreggio ha suonato la terza mia chiudere tutto allora porte finestre tutto al buio e tu amministratore chiami i miei avvocati e tagli carta bianca per colompere giudici uditori funzionari testimoni ma signor marchese ne costerà molto di più che pagarlo ma che te pinci tu io non è più vero non lo voglio pagare voglio vedere se le ragioni di un plebeo morto di fame valgono più degli soprusi che può fare un marchese ricco e potente come me si eccellenza ecco ai suoi ordini bravo adesso andate vedere tutti sparite non me rompete più i coglioni perché io voglio dormire ecco sei addormito va piano va piano guarda stai 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 Buongiorno, signor Marchese. Buongiorno, signor Marchese. Buongiorno, signor Marchese.